Sì, 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 ci dobbiamo separare. Agli scolari bisogna parlare. E i nostri amici, sì, sono in una stretta. Sì, deve agire in grande fretta se vi vogliamo aiutare. Per pomperare il latte alla mamma, di cantare hanno in programma. Unitevi a noi, scolaretti, nella lotta contro il repotente che li vuole ostacolare. Ma la vostra vocina ci potrà aiutare. L'unione di tutti sarà il nostro potere. Andremo tutti insieme, sì signore. La vittoria possiamo ottenere contro il malvagio dittatore. Diamo al mondo un bel esempio. L'unione di tutti sarà il nostro potere. L'unione di tutti. L'unione di tutti sarà il nostro potere. L'unione di tutti sarà il nostro potere. L'unione di tutti. L'unione di tutti sarà il nostro potere. L'unione di tutti sarà il nostro potere.